Sarebbe la follia, vado io in ufficio con lo scotch e lo porto via io di peso, quindi penso e spero che ieri sia stata una giornata di liberazione per i romani e questa città invece delle Olimpiadi di cui fanfaroneggia Renzi ha bisogno di cura, ha bisogno di attenzione, ha bisogno di manutenzione, ha bisogno di affetto e ha bisogno di gente normale.